La società italiana di mesoterapia ha ideato questa rubrica con Pacini Editore per dare al medico di assistenza primaria la possibilità di avere un punto di riferimento scientifico sulla tecnica mesoterapica. La mesoterapia è una tecnica mini-invasiva attraverso la quale si infiltrano sostanze nello strato superficiale della cute, può trovare una utile collocazione nel paziente che non ha ottenuto benefici da altre terapie o se i farmaci non possono essere somministrati per via sistemica o quando si intravede un vantaggio sinergico tra la terapia locale e altre terapie farmacologiche e non e soprattutto quando è necessario ridurre la dose di farmaci per via sistemica. Usata correttamente la mesoterapia è efficace nel trattamento di condizioni muscoloscheletriche dolorose, nell'insufficienza linfatica e venosa degli arti inferiori, in alcune alterazioni cutanee, in applicazione estetica e spesso applicata in campo di abilitativo o in medicina dello sport. Quindi sono molte le occasioni in cui il medico di medicina generale potrebbe consigliarla o venire interpellato dal proprio assistito per sapere se la mesoterapia sia o meno utile per risolvere un dato problema. Questa rubrica quindi ha lo scopo di informare il collega medico di medicina generale e dare un riferimento offerto dalla società italiana di mesoterapia attraverso delle pillole informative realizzate da vari esperti che intervengono e interverranno periodicamente su questa rubrica a cadenza regolare. Inoltre cliccando sul link che vedete a fianco di questo video si potrà partecipare a un sondaggio per meglio rispondere alle esigenze del medico di medicina generale. Auguro a tutti i colleghi una buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.